Questa volta il turnover totale non ha pagato, Gubbio più pugnace determinato. L'eliminazione deve fungere da monito in vista del match casalingo. Con la Gelbison per atteggiamento i campani sono simili agli Umbri, giusto dare la possibilità a tutti di giocare, lo si fa per tenere i giocatori sulla corda, coinvolgerli nel progetto, certe volte però gli effetti non sono quelli sperati. Capita come è accaduto con il Gubbio, neanche paragonabile per valori e classifica. La Vis Pesaro, in versione sperimentale, affrontata un mese fa in Coppa. La prima sensazione, Umbri più cattivi nell'accezione più nobile del termine e di certo più determinati. Alcuni tre bianchezzuri hanno pagato la lunga assenza per motivi diversi, è il caso di Crescenzi, Crecco e Aloi, altri, Vedi, Saccani e Vergani, il non essere impiegati con continuità. Si fa però obiettivamente fatica, almeno oggi, a rinunciare a gente come Cancellotti e Lescano. In difesa si è distinto De Marino, prestazione pulita, attenta, senza sbavature, il migliore del reparto arretrato. Bene invece chi è subentrato, in particolare De Sogus, autentico mattatore, purtroppo non è servito. Il classe 2002 del Cagliari è salito in cattedra, ha fatto la differenza con giocate di altissimo lignaggio. Altresì, convincente Colai, tutto si decide nel breve volgere di un paio di minuti. Clamorosa traversa dell'Italo-Albanese, deviazione decisiva dell'estremo Umbro-Meneghetti, capovolgimento letale, sfruttato dal neoentrato Federico Vasquez, con un sinistro a piazzare, di rara precisione. Gubbio schierato secondo i canoni del 3-5-2, un solo centrale di ruolo, Portanova, nel trio completato dal giuliese Bontae Tazzer, il primo centrocampista e il secondo laterale di spinta. Gli Umbri non avevano mai battuto il Pescara, successo dunque storico. Nelle precedenti sette sfide, appena due pareggi e cinque capo, per Braglia seconda vittoria all'Adriatico. La prima, 15 anni fa, in Serie C, 2 settembre 2007, alla guida della Lucchese. I toscani si imposero 3-0.